Il 2019 vede per BASF il lancio di un nuovo principio attivo, cosa possiamo dire? Giusto, Revisol è il nostro nuovo principio attivo dalla famiglia dei triasoli. Comunque è un triasolo molto innovativo, ha delle caratteristiche uniche fisico-chimiche che fanno di questa molecola un prodotto molto innovativo. È una molecola flessibile che si adatta e si attacca al fungo molto più fortemente che qualsiasi altro triasolo e per quello consegna una performance eccezionale. Adesso stiamo parlando qua dei cereali dove verrà lanciato il primo prodotto, però arriveremo anche sulle altre culture come la vite, la frutta e le orticole. Un prodotto anche che consegna benefici per gli agricoltori. Queste caratteristiche uniche fanno che il prodotto performe benissimo anche a temperature che sono basse. Abbiamo visto prove dove mostrano un controllo del 90% a temperature basse quando altri già sono calati meno dell'80%. Questa flessibilità anche permette di scaricare i picchi di lavoro sull'azienda agricola perché la finestra di applicazione è molto più ampia. Sta arrivando un'app che renderà la vita più semplice agli agricoltori. Quest'anno stiamo lanciando in Italia Servio Scouting che è un'app, una nuova app che permette ad esempio di riconoscere malattie infestanti sul campo. Quindi noi diciamo che aiuta tantissimo ai tecnici o ai agricoltori nel suo lavoro diario al campo. Semplicemente scattando una foto di un'erba c'è un algoritmo di intelligenza artificiale indietro che permette di riconoscere quell'infestante lì e dopo anche suggerire dei prodotti per il trattamento. Riconoscere ma anche va oltre perché condivide nel caso l'agricoltore lo voglia e quindi arrivano degli allerta su minacce in arrivo. Giusto, se la persona che sta utilizzando l'app consente la condivisione dei dati o dell'informazione che sta utilizzando dentro l'app può anche accedere all'informazione che gli altri stanno guardando. Quindi questo può funzionare anche come un'alerta per infestanti o malattie che si stanno vedendo in campi vicini ad esempio. Grazie a tutti.